Siamo a Roma, al convegno dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica e parliamo delle novità sul trattamento del melanoma avanzato con la dottoressa Paola Queirolo che su questo argomento ha tenuto un interessante intervento. Dottoressa, innanzitutto che cosa c'è di nuovo sul fronte della terapia adiuvante? Finalmente dopo tanti anni di impiego solo di interferone che forniva un beneficio in termini assoluti solo di diminuzione del 3% nella mortalità in adiuvante appunto, abbiamo dato positivo del trial 029 che è lo studio di ipilimumab a 10 mg verso il placebo, uno studio condotto dall'RTC su più di 900 pazienti e i risultati sono stati molto favorevoli per ipilimumab in termini di efficacia nella sopravvivenza aggiornata a 5 anni, c'è un beneficio dell'11% di pazienti in più vivi, ovvero 65% verso il 44%. Quali sono invece le novità sul fronte dell'immunoterapia? Per quanto riguarda l'immunoterapia abbiamo finalmente approvati in prima linea nella terapia del melanoma in fase avanzata gli anticorpi anti-PD1, sia nivolumab che pembrolizumab. Fino a quest'anno, alla primavera di quest'anno avevamo solo ipilimumab, avendo già pure le informazioni che erano migliori in termini di efficacia le altre strategie, ma finalmente appunto sono stati approvati all'inizio dell'estate. Inoltre sia ad ASCO che a ESMO più recentemente sono stati portati i dati di aggiornamento delle sopravvivenze con queste strategie. Con pembrolizumab i dati dello studio Keynote 01, che è il più grande studio di fase 1 che si è mai stato condotto nel melanoma con 655 pazienti arruolati, ci ha dato una dimostrazione di sopravvivenza molto molto vantaggiosa a lungo termine con il 40% di pazienti vivi a 3 anni e soprattutto nei pazienti naive, cioè mai trattati in precedenza con altre strategie, il 45%. Inoltre la tossicità è decisamente più lieve rispetto a quella che incontriamo con l'ipilimumab perché abbiamo un massimo 10% di pazienti che riportano una tossicità a grado 3-4 con pochissime interruzioni del trattamento. È una tossicità che consiste fondamentalmente in tiroiditi, coliti e più raramente uveiti. Per quanto riguarda invece i nivolumab abbiamo i dati importanti di aggiornamento della sopravvivenza a 5 anni che è del 35%, quindi praticamente sovrapponibile a quella dei 4 anni, quindi anche con l'ivolumab abbiamo raggiunto un plateau di sopravvivenza e poi i dati della combinazione con l'ipilimumab. Sebbene la combinazione ipinivo sia più tossica della sola monoterapia con l'ivo o con l'ipi perché abbiamo un 55% di pazienti che riportano una tossicità a grado 3-4 e quindi nel 30% dei casi interrompono il trattamento, abbiamo l'informazione che per questi pazienti la sopravvivenza almeno libera da progressione è migliore rispetto a quelli che continuano la terapia. Quindi questo dato significativo ci fa anche pensare di non temere di interrompere il trattamento in quei pazienti che riportano una tale tossicità perché comunque questi sono quelli che poi beneficiano di più a lungo termine nella sopravvivenza. Ecco, oggi ci avete raccontato che ci sono novità interessanti anche sul fronte degli inibitori delle tirose inchinasi. Di che cosa si tratta? Che dati ci sono? Beh, anche per quanto riguarda appunto i pazienti viraffutati abbiamo una grande novità che è quella dell'approvazione da parte di AIFA della combinazione Vemurafinib e Comimetinib e tra qualche giorno avremo anche l'approvazione di Dabrafenib e Trametinib. Sono combinazioni di Dabrafenib inibitori e Mac inibitori che hanno dimostrato in tre studi randomizzati di essere superiori alla monoterapia sia con Dabrafenib che Vemurafenib. Gli studi hanno delle curve assolutamente sovrapponibili con una percentuale di pazienti vivi a un anno del 75%. Ricordiamo che con la terapia tradizionale, con la chemioterapia fino al 2011 la sopravvivenza era del 25%, quindi è triplicata nel giro di pochi anni e hanno una sopravvivenza a tre anni del 45%. Ci avete detto anche che si stanno studiando combinazioni di immunoterapia e farmaci mirati. Che studi si stanno facendo? Gli studi sono tantissimi perché tantissime sono le informazioni che vogliamo avere per riuscire rapidamente a raggiungere una percentuale più alta di pazienti che sopravvivono a lungo termine. Alcuni studi sono già partiti con la combinazione di Dabrafenib tra metinib più il Pembrolizumab e quindi per valutare nei pazienti con un alto rischio, con un più alto carico tumorale, l'efficacia di una tripletta e poi la combinazione di anti-PD-1 con altri farmaci immunomodulanti. In particolare sta partendo proprio in questi giorni lo studio di combinazione di Pembrolizumab con l'anti-Aido. Aido è un enzima che metabolizza il triptofano che conferisce una particolare aggressività al tumore e quindi combattendo sia a livello di sblocco del blocco immunologico con l'anti-PD-1 più questo anti-Aido dovremmo aggiungere tantissimo in termini di sopravvivenza ai pazienti. Quanto meno sui dati riportati all'ESBO proprio recentemente a Copenaghen abbiamo visto come la strategia di combinazione con una tossicità assolutamente modesta, infatti non è stata risontrata la tossicità grado 3-4 comunque fornisca il 26% di risposte complete e più del 50% di risposte parziali, quindi è un dato davvero entusiasmante.